piccolo batuffolo di cotone le sghede Dario ci parli del tuo daltonismo? Dattro 24 ok, le sghede fai pure il mio daltonismo in realtà viene fuori praticamente da sempre perché ci nasci, è un difetto genetico diciamo che l'ho scoperto alle elementari durante un natale, forse il mio primo natale alle elementari e ci davano le schede da colorare all'asino non me ne accorsi anzi, credo che appunto fosse alle elementari non all'asino praticamente mi datero queste schede dove dovevamo colorare gli elementi del natale tipo l'albero, il panettone tutte queste stronzate qua e ci davano ovviamente le matite niente, io stavo colorando e a un certo punto arrivo al panettone e lo coloro di grigio con la matita grigio le maestre arrivano e fanno ma perché lo colori di grigio? è perché il panettone è così e cos'è, perché ci riprendono in giro non si prendono in giro le maestre eccetera grazie appunto per i 3 euro come uno è che mi prendono in giro? lo vedo così questo è il panettone allora lo segnalano a mi madre e mi madre mi porta a fare una visita mi porta a fare una visita e mi... la dottoressa prende il solito plico con tutti i numeroni dentro scritti dentro a questi pallini colorati grazie a Mircos 5 4 2 3 per l'euro e diciamo che erano a scalare cioè dal più facile al più difficile mi mise davanti livello 1 niente non riuscivo a vedere nemmeno nemmeno quello lì quella scheda lì non riuscivo a vedere nessun numero e quindi insomma gli dissero ai miei genitori che ero daltonico non è mai stato un problema per me però c'è stata una cosa che ho sempre notato del mio daltonismo ogni volta che i miei studi artistici mi trovavo a colorare o a dipingere comunque io vedo bene primari giallo, rosso, blu faccio casino con i verdi con i marroni con i grigi con alcuni tipi di giallo e per quanto riguarda invece il mio daltonismo beh niente ho notato nella mia appunto carriera scolastia artistia che quando dipingevo qualcosa coloravo qualcosa sentivo il bisogno di separare i colori da un tratto nero li separavo con il nero con un tratto nero e questa cosa mi è rimasta ancora oggi e poi ho iniziato proprio a a disegnare solo in bianco e nero e a dipingere solo in bianco e nero con il bitume con gli smalti bitume quindi ho amore è una cosa normale quello con cui fanno le strade anche e grazie a Anonymous per i tre euro e quindi ho sempre lavorato con quella roba lì no 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 però ecco certi shiny non li vedo bene cioè meno male ci sono le stelline perché non li vedrei non li perderei quindi nulla purtroppo vabbè purtroppo c'ho questo difetto ma per me ripeto non è mai stato un problema non sono mai stato preso in giro per questo però arrivano le solite domande grazie pescio e ah ma te sei daltonio che colore è questo e ti indicano tutte le ose i tessuti sì ma non sono un animale ma come sono belle le domande su daltonici io ho un cugino daltonico lo massacro ma perché mi devi rompere i oglioni grazie a chi rei per l'euro lo so che esistono l'occhione ma sono scammate totali ah è vero per la patente come hai fatto mi hanno fatto un test tremendo ma esistono delle enti apposite sì ma ripeto non correggono totalmente il problema ecco sono solamente dei filtri mi ha spiegato Lenzi come funziona se volete poi un giorno ve lo faccio riraccontare bene fresco fresco così ve lo dico Dario fammi un esempio di una carta che potresti vedere diversamente da noi è le gold star a parte tutto in realtà perché dipende dai colori dei pokemon io alcuni non li definisco bene e mi chiappo il nasello ehi non farlo perché? perché oggi è uscito un nuovo video di lesghede e quindi ci sono tanti momenti divertenti presi proprio dal canale Dario Moccia Twitch su Twitch allora non mi chiappo più il nasello